Sul Coppa Sirio ha detto che si dimettono tutti, aspetto le dimissioni, aspetto l'azzeramento di tutti, ma si dimettono tutti, vengono rinomiati nuovi componenti e poi sceglieranno il presidente che ritengono, quindi i componenti della Lega sono pronti a dimettersi, ovviamente non devono essere gli unici a dimettersi, se si dimettono i due componenti della Lega e gli altri restano lì è una barzelletta, più che dire azzeriamo tutto e ripartiamo da capo, aspetto che rispondano gli altri partiti, la Lega è pronta.